Oggi stabiliamo, cioè chiariamo, chi sono io, chi siete voi, cosa faccio io e cosa fate voi. Perché questo? Perché qualcuno che mi scrive pensa che avendo iniziato questo rapporto di collaborazione per arrivare all'acquisto di una casa, pensa che io sia diventato il loro tecnico di fiducia. Io il tecnico di fiducia alle persone l'ho fatto dal 1998, 20 anni esatti, dal novembre 1998. Siamo a novembre 2018 e non lo faccio più. Perché questo? Il tecnico di fiducia è colui il quale, che ha la vostra fiducia, che possa essere un geometra, un ingegnere, architetto, l'avvocato, il commercialista, il vostro psicologo, chiunque, è una persona di vostra fiducia che compie delle azioni, che compie delle prestazioni al posto vostro. Però che significa? Che in quel momento continuate ad essere estranei e esclusi dai ragionamenti e dalle decisioni. E soprattutto sono persone che vanno pagate per fare questo, per forza. Sono persone alle quali chiedete delle consulenze, delle prestazioni e queste vanno pagate. Il mio scopo qual è? Il mio scopo è quello di rendervi completamente autonomi. Sembra assurdo, ma come non ci vuoi vendere la tua consulenza? Sì, io ti vendo la consulenza. Me la pagate profumatamente, però il mio scopo è quello di vedervi man mano salire il vostro livello di autonomia per poi non aver più bisogno di me. È assurdo, è strano sentirselo dire, ma come non ci vuoi vendere più consulenze? No, io ho scritto un libro che sul libro non è un libro di vendita. Sul libro c'è scritto tutto il percorso da compiere, da fare, da seguire passo passo e in completa autonomia si riesce ad acquistare una casa e fare tutti i passi necessari, tutte le verifiche necessarie per andare a risparmiare tempo e denaro. Il denaro è anche il denaro speso per le consulenze, perché sono certo e ne ho le prove che puoi tranquillamente essere in grado di fare tantissime azioni tranquillamente da solo. Senza l'ausilio di un tecnico che faccia le cose per voi. Se quando mi scrivono mi è arrivata la mail dell'agente immobiliare che contiene documentazione, me la puoi guardare? No. Sai benissimo che quella documentazione, sai benissimo come controllarla, sai benissimo dove andare a mettere gli occhi, sai benissimo dove cercare di capire dove ci sono delle incongruenze in quella documentazione. Lo devi fare tu, non solo il tuo tecnico di fiducia che lo fa per te. Il tuo tecnico di fiducia potrebbe essere una persona che non avvezza gli acquisti di case, perché magari ha fatto sempre altro. Un ingegnere strutturista, l'architetto design, il geometra che lavora solo di catastro, di insegne luminose. Io conosco geometri che fanno soltanto l'insegne luminose per i negozi o agibilità. Quello fanno. Poi lo chiami, conosco un geometra e vieni con me a comprare una casa. Devo comprare una casa. Chi ti dice che quel geometra, tecnico, ingegnere, architetto, avvocato abbia la dimestichezza con l'acquisto delle case e quindi chieda tutte le informazioni necessarie, chiederà magari le strette necessarie, tu chiedi di più. Tu devi essere in grado autonomamente di chiedere di più. Quindi non sono io qui a vendervi consulenze per venire reiterate volte con voi a vedere una casa e non sono qui io a fare il lavoro per voi. Avete il mio numero di telefono, chi ha fatto consulenza con me online o di persona ha il mio numero di telefono, ma non sto qui a rispondere a tutte le domande perché mi dici io non ho avuto tempo di fare questa cosa, la puoi fare tu per me. Io se vuoi ti chiarisco un tuo dubbio. Ho analizzato questo documento secondo me. Bene, parliamolo, sono contentissimo, non mi devi pagare, mi hai già pagato profumatamente. Facciamolo insieme. Ma non io per te. Chi applica il metodo compro casa è una persona che deve inizialmente studiare, prepararsi per poi andare a risparmiare tempo e denaro in questo processo. Il denaro delle consulenze esterne dell'avvocato, il tecnico di fiducia e il tempo di essere in grado di poter apprendere un'informazione, prendere una decisione e rispondere. È autonomia. Completa. Autonomia e rapidità. Perché sa valutare la situazione. Chi invece si avvale di un tecnico di fiducia, che non sono io, è uno che prende l'informazione, poi la porta al tecnico di fiducia. Il tecnico di fiducia la analizza, gli dà una risposta e con questa risposta la persona va di nuovo in agenzia a dare il risponso. Passa del tempo. Però non hai neanche la certezza che il tuo tecnico di fiducia abbia fatto tutte le analisi giuste e doverose. Quindi non sto qui a vendervi nulla, vi vendo una, due al massimo consulenze, come i signori che mi hanno scritto, due consulenze a pacchetto, però non significa che compri un tecnico che sta lì a fare le cose per voi. No. Io sto lì vicino a voi e insieme facciamo le verifiche. Insieme percorriamo tutto il percorso che poi porta all'acquisto di una casa. Se non avete tempo, non lo fate. Ci sono una marea di video su YouTube, una marea di blog, qualcuno buono, qualcuno meno buono, io intanto li guardo, ci sono persone che dicono delle stronzate enormi, ci sono persone che si limitano ad elencare quello che dovete fare, ma nessuno ti ha mai detto perché e come lo devi fare. Fatti dare il titolo di proprietà, delle visure ipotecarie, ok, ma che ci deve stare scritto su questi documenti? Come si valutano questi documenti? Quando devo gioire perché questi documenti abbiano, hanno delle incongruenze? Devo anche gioire in quel momento perché io so come gestire queste problematiche buone, le tiro tutte a me, a mio favore. Un tecnico che vede una problematica negativa potrebbe dirti, lascia stare, c'è un problema. Non è così signori, guardatevi i video, se non volete comprare una consulenza, non volete comprare il libro perché non avete tempo di leggere, ok, ritagliatevi del tempo per guardare questi video sul canale, iscrivetevi a questo canale, vi arriva una notifica e ogni video tratterà un argomento, tutta una serie di video vi porterà a prepararvi, altrimenti delegate un tecnico e fa le cose per voi, però siete acquirenti di case come tutti gli altri. Sono persone che delegano e poi alla fine non ce ne siamo accorti, non lo sapevo, non me l'avevi detto e tutto lì. Quindi c'è il blog luigilardi.it, c'è questo canale, iscriviti, c'è la mia mail, c'è la consulenza gratuita, c'è tutti, ci sono tutti gli strumenti per non pagare nulla ma prepararsi al meglio. Al massimo posso venire con voi una, due volte, una, due volte, non 50 volte, una, due. Prossimo video, argomento. Questo è un video un po' di sfogo e per chiarire. Ciao, vi saluto, buon lavoro.